buongiorno non è corretto contrapporre il vangelo all'antico testamento contrapporre gesù al dio dei padri della legge e dei profeti non è corretto pensare che il signore operi per negazioni e annullamenti il vangelo di matteo oggi nel capitolo 5 versetti dal 17 al 19 dalla bocca del signore gesù ci indica come l'azione del signore avvenga sempre per approfondimento per estensione per traboccamento mai per rifiuto o negazione il dio che si è rivelato nell'antico testamento e che continua progressivamente a svelare il suo volto nella storia trova in gesù il suo pieno compimento e compimento vuol dire appunto prima di tutto scavare in profondità entrare dentro le righe della legge dentro la norma espressa dalle parole dei profeti per coglierne la radice e il senso più intimo che è l'amore approfondire dunque le regole approfondire quelli che sono le indicazioni di cui è costellato il percorso del popolo di israele ma anche ogni cammino spirituale approfondire per capire che l'amore che sta alla base di tutto ha bisogno di ordinamento e indicazioni per poter essere vissuto adeguatamente portare a compimento per gesù significa riportarci questa radice senza perdere di vista il tronco i rami le foglie e soprattutto i frutti il secondo itinerario che gesù propone dunque è quello dell'estensione non il rifiuto non la separazione non la negazione ma è riconoscere che quella stessa legge che dio ha donato proprio perché si radica nell'amore vuole arrivare a tutti addirittura con una maggiore radicalità perché ha bisogno di toccare l'animo di ciascuno di tutti noi nel momento in cui ci riconosciamo peccatori la legge infatti è percorso che riconosce la dimensione della creatura peccatrice l'amore che sta alla base che in gesù si manifesta permette di perdonare questo peccato e dunque dona la salvezza una salvezza senza confini illimitata che si estende fino ai confini del mondo che vuole raggiungere tutti gli uomini le donne di tutta la terra e di tutta la storia e così il terzo passaggio in gesù la legge trabocca in una irruenza di amore e di gioia di pace e di giustizia che da sola la norma non può dare ma che la relazione con il signore può trasformare in realtà l'amore trabocca perché il cuore di gesù è il cuore di dio donato per la nostra salvezza nulla della sua opera va perduto e accoglierla significa anche sentirsi mandati con responsabilità a viverla e ad annunciarla come tale la chiesa chiamata a questo la chiesa che approfondimento estensione e traboccamento dell'amore buona giornata chiamata